Ecco a cosa portano gli accordi tra la protezione civile regionale e la guardia costiera sulla riviera romagnola. Questo gommone fa parte di un progetto decennale che la nostra regione Remiglia Romagna su input della protezione civile regionale ha creato per aumentare la sicurezza dei cittadini. Quindi basti pensare che questo qui è il decimo gommone che viene fornito alla Capitania di Porto che ha la competenza della salvaguardia della vita umana in mare. E grazie a questo progetto abbiamo creato una sinergia tra Capitania di Porto, protezione civile, vigili del fuoco e sicurezza. In totale basti pensare che sono 30 i gommoni che su tutta la costa d'estate fanno la sorveglianza in mare con parametri che ci portano ai migliori performance europei. Cioè un gommone ogni miglio e mezzo di costa. Assessore Paola Gazzolo, in che tipo di accordo rientra fra protezione civile e guardia costiera la cerimonia che stiamo svolgendo oggi? Ma rientra in una convenzione quinquennale che è stata rinnovata nel 2007, una convenzione che ha ormai circa 10 anni e di fatto va sottolineato perché credo che sia anche un'altra ragione di orgoglio. È la prima convenzione che è stata stipulata fra regione e ovviamente in questo senso la direzione marittima regionale. La prima convenzione che ha fatto scuola nel paese ed è stato e ne è uno degli esempi che ha permesso e continua a permettere in realtà di migliorare la capacità di intervento, un intervento coordinato e integrato e al contempo di rendere il sistema regionale di protezione civile dell'Emilia Romagna fra i più efficaci ed efficienti nel paese. Aggiungo a questo che ovviamente la notizia positiva è che anche grazie a questa convenzione alla giornata di oggi, con la consegna di questo battello, oggi ogni porto dell'Emilia Romagna sarà dotato ovviamente di un mezzo che potenzia e rafforza il sistema di intervento di protezione civile, quindi di salvaguardia dell'ambiente marino e anche di intervento per la salvaguardia ovviamente in mare dei nostri concittadini, della nostra comunità. Non avete paura che con la politica dei tagli da parte del governo questo tipo di interazioni possano in qualche modo essere scalfite? Sì, la preoccupazione e l'attenzione del governo regionale è molto alta, perché in realtà è stato azzerato il Fondo regionale di protezione civile nel 2009 e queste erano risorse che alimentavano anche il potenziamento dei centri e il potenziamento dell'attività di protezione civile. È venuto meno in questo momento anche con il Mille Proroghe, di fatto viene spostato sul governo regionale e sui cittadini dell'Emilia Romagna, quindi fondamentalmente anche attraverso nuovi tributi, il concorso, anzi più che il concorso, l'intero sostegno delle spese, ovviamente delle conseguenze anche di emergenze e calamità di tipo nazionale, quindi non soltanto quelle locali e regionali. E dall'altra parte, sempre con il Mille Proroghe, viene anche qui reso molto più complicato anche tutta la procedura che di fatto consente l'utilizzo di queste risorse. Quindi è evidente che questo, unito più complessivamente agli altri tagli che sono stati operati con l'ultima finanziaria, ha i tagli successivi che derivano anche dallo stesso Mille Proroghe. Fate conto che per esempio sulla prevenzione e sui piani di intervento per la messa in sicurezza del nostro territorio, quindi del suolo, della costa, sono stati già decurtati 100 milioni col Mille Proroghe dell'insieme degli accordi di programma siglati da tutte le regioni, che per noi, insomma, significa un 10% in meno di risorse dagli impegni che credevamo fossero definitivi con il governo. Quindi 10% in meno su 90 milioni di risorse assegnate a fronte ovviamente di ulteriori risorse che accompagnavano questo accordo messo a disposizione dalla regione. Quindi io parlo in particolare di questi, sono solo, considerate che se questi sono solo, le preoccupazioni che fanno capo alla mia delega, e quindi protezione civile, difesa suolo e costa, potete immaginare rispetto alle parole anche del Presidente Vasquerrani, dichiarate ieri come Presidente della Conferenza delle Regioni in occasione della prima discussione sul federalismo regionale, e quindi rigettandola per mancati impegni anche qui, soprattutto legati al tema dei trasporti, insomma, quanto sia alta la preoccupazione del governo regionale e quanto questa possa seriamente minare quello che io credo sia un motivo d'orgoglio insomma per tutto il sistema, quindi non solo per la regione Emilia Romagna, ma per tutto il sistema degli enti locali, per la Capitaneria di Porto, per i Vigili del Fuoco, per tutto il sistema che insieme al volontariato ovviamente si muove nei momenti in cui la comunità ha bisogno, di fronte a volte a drammi e a emergenze, come anche le ultime che sono capitate qui in Romagna nei giorni scorsi, che hanno visto sinceramente ben operare, io credo, ottimamente operare l'intero sistema.